Oh, andiamici al gioco, tu sei rango 12, eh, 19. Già questa cosa mi sta sul cazzo. Rango 12 che vuole scambiare. Va bene, andiamici al gioco, ok? Che non sopposto il tuo amico del cazzo. Ok. Ti volevo ricordare che tu con il tuo caro amichetto stavate un po' risultando un po', eh? Volevo ricordare che tu con il tuo amichetto stavate un po' risultando, eh? Omo, chi scambia? Omo, donna. Fate tanti simpatici. Sì, ma guarda. Noi troviamo gente accadde, ha la voce da bambino, però. Ah, vedo, pure la voce da bambino. Eh, l'unico che non c'è cascato sei stato giù. No, ma guarda, Fra, ma non si capiva, Fra. Cioè, Fra, non si capiva proprio che era la voce modificata. Perché è così? Fra, non mi faccio fottere da te. Cioè, capiamoci. Eh, capiamoci. Vabbè. Quindi tu, il controllo della gente è che fai? Eh, le trollo facendo la voce da bambino. Però io ho un truffo. Sono una persona onesta. Hai armi? Non, no, sono propria. Che permesso? Riggio. Ok. Permesso. Mi chiudiamo. Fra, metti di là. Ok. Ti hai permesso di non me li dai. Tu hai pochi anni, no? Tu hai pochi anni, no? Potremmo fare... Sono tutte modate. Sono tutte modate. Guarda, Fra, non so se la conosci. Metcandy con 127 acqua. Sì, sì, non so. Beh, l'ante. È vero, l'ante, Fra. Sì. Fra, io ti chiamo in tutto il mio commentario per tutto il tuo. Spero? Sì, Fra. Però dopo senza permessi, perché se no spacchi il muro e capito. No, io potresto l'interno. Un attimo, Fra, riprenditelo. Sì, riprenditelo. Aspetta due secondi. Devo mettere le trappole nel deposito perché mi stanno sul cazzo le trappole, Fra. Ci sono, Fra. No, Fra, però non mi fido, eh. Fra, dai, Fra. Però lì già me lo puoi mettere perché... Non si può mettere l'idea. Da quanto tempo non giochi? Sì, è un po'. Oh, però mi raccomando, trappa tutto. Tutto, 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 Fra. Ah, ok. E la tua arma era questa. Le spade? Le spade non ce n'ho. Non ne hai? Allora facciamo così, ti rende ancora più ricco. Cazzo, mi sono restato una vigilante all'uno. Che sbaglio. Cazzo. La vuoi? O me la tengo? No, 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 taglio, la taglio. Allora, so, dai, ti rendo più ricco. Ok. Ma dopo anche tu materiali. Materiali... Ne ho pochi? Tutti. 100. Aspetta, 11 di questo. No. E va. Poi ti devo soffa pure i minerali, rame e argento. Boh, vabbè, se li dai. 100. E va. Però questo è già. Pronto? Buono. Sei pronto? Fra, dai, dopo. Tanto. Ma non vado a fare il culo. Che? Fra? Fra? Che facevi tanto che adesso? Che facevi tanto che adesso? L'inventario, Fra. L'inventario! Fra, mi sa che sei andata a fa' un culo. Fra, comunque quello non era il vero nome, eh? Sì, sì. Non so se fosse fatto dire dell'amico. Sì, fa' dole. Oh, great! Bello, questa arma. Tu, insomma, il tuo amico non mi stavate tanto. Fra, insuttami. Fra, vai, 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 un giro, Fra. Tu, Fra. Ti, via, dai, ci devo andare con l'arma, va. Pietro, perdono. Che in più ti ho tuffato con una maniera, Fra, proprio. Fra, Fra, un attimo per me, ci aspetto che ci regano una con l'arma. No, vabbè, dai, facciamo i seri, facciamo i seri. Fra, hai qualcosa da dire? Nuovo a piangere dalla mamma. Mi hanno tuffato l'invento, Fra. Fra, libero verso, Fra, fra. Fra, pie, 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 come, io, Fra, sono tua madre. Amore, mamma, prendi questa per la sicca... Tranquillo, ma glielo do. Tu, tu. Mi gasto due zampolini. Anzi, lo sai che ti dico? Ne basta uno di zampolino. Uno, due, tre, quattro. Vai, spacco, spacco, prendo materiali, spacco, spacco, prendo materiali. Vedi, Fra? Vedi, Fra? In che modo ti ho tuffato, Fra? Fra, guarda, 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 vuole... Mi vuole le armi, Fra. Fra, dai, vai. Almeno ti prendi un po' di festa, vai. Almeno ti prendi un po' di festa, vai. No, Fra, almeno sta ballando, almeno, guarda. Un attimo lo vado a dire al suo amico. Balliamo, blu. Fra, insultavate tanto. Il tuo amico non ha più un inventario che prendevate tanto per il culo. Eh? Eh, Fra? Eh, Fra? Eh, Fra? Con la voce da bambino. Ora non parli più, ora non parli più, ora non parli più. Il King! Eh? Il tuo amico ha perso l'inventario perché tanto facevi il coglione. Eh? Sei contento? Sei contento? Boom! Vai in certo gioco, così ti sentono pure gli iscritti. Fra, boom, boom, boom. Vai, andiamo in certo gioco. Vai, andiamo in certo gioco. Fra, che cosa abbiamo condenato? Ma in più l'ho truffata nella maniera più bella del mondo. Fra, dai, quindi hai qualcosa da dire? No. Fra, com'è che insultavi tanto, potete capire? Potete capire, com'è che insultate tanto? No, dai, sentiamo. Voglio sentire l'opinione anche tu, no? No, anche tu. Prendevi tanto per il culo. Fra, non ti capisci a prendere per il culo le persone sbagliate, non lo vengo. Uhuh! Che c'è? C'è? I truffi. No, Fra, io truffo quelli... I truffatori? E quelli che vanno tanto a divertirsi a... Fra, non truffo? Mmh, certo. C'è vita mia, il ragazzo, ma poi... Eh, Fra, eh, se non truffi, allora, ok, ok, non truffi. Eppure insulti tanto, prendi tanto per il culo... Ciao, vuoi giocare con me? No, io... Io dico, ma io vado a giocare a salvo al mondo, e lui... Va bene, scambiamo, vado a poche armi. Io... Eh, chi, chi... Eh, vieni tu, salva, io non... Beh, l'altro, però, non salva, solo io salvo. E io, eh, che ti dicevo, no, tipo... Eh, eh, sbriati, cioè, quali chi, ah, che a salva, e tu dicevi... Eh, oh io, oh io! E io gli dico, dimmeli di, e lui... Donna. Donna. Omo. Omo. Donna. Fra, ma dove l'hai inventata? Dove l'hai conosciuta queste battute? Sì, ho la testa, crocino. Eh, eh, fra, è proprio perché sei l'amico suo. Fra, il tuo amico, però, ti ha fatto bene inventare. Fra. Puh, hu, hu. Mi abbiamo truffati tanto, tanti truffatori, tanti truffatori, ma non abbiamo... Ma porti fortuna? Cioè, io provavo a truffare, inventare i truffatori, non ci riuscivo mai. Mo, tre volte di seguito. Puh, hu, hu. Fra, ma ne abbiamo truffato tanti di truffatori, ma ne hanno incoglioniti come te mai, fra. Eh, eh, non c'è la testa, no, no, no. Che poi, davvero, si sa, ecco, abbiamo schermi d'alimentare, venga bene. Che poi avevi anche il doppio salto, cioè, se in due secondi facevi il doppio salto, o... Tendi di prendere i truffatori. Ma sei l'incoglioniti, appunto, cioè, per questo ero l'incoglioniti come lui. Cioè... Musicali insieme, sai che facciamo la box delle meraviglie, ok? Ok. Quindi facciamo le box delle meraviglie, vieni qua, insieme nella box per truffare. Ti piace il metodo per truffare, però, almeno, dai. Ancora, bravo, ci diamo, ci diamo, questo. Poi, questo. Questo. Poi, io do, proprio così, proprio così. Poi, vai così. Così. Fra, dammi i permessi. Un attimo, Fra. Un attimo, Fra. Io devo dare altre cose. Questi. Fatto, Fra. La box delle meraviglie. I permessi. Fra, sei pronto? Tre, due, uno. Vai, Fra. È il duecento di tuo. Affogati, Fra. Vai. Vai. Però, diretto, eh. Ma, diretto, eh. Cioè, non ti fermare a guardare. È diretto, proprio. Tutu, 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 capirà. Non lo capirà. Vai, Fra. Lo so che c'è più uno. No, Fra, che cazzo dici? Fra. Entra. Fra, me lo prendo un mondo. Guarda, guarda. Eh, guarda, ce lo prendo lui. No, non vi aiuto, roppa te. Il pauverino. Allora si 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 arriva Dai li troppa Vai Vai Nooo Ok vai 3, 2, 1 La porta delle meraviglie Vai Raccogli tutto Rammelo 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 Te l'ho avuto Tu puoi 33 Per tu Rammelo Non è vero No 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 Ti farà male Prendi tutto e nessuno ti farà male Va bene Ciao Oh sono più picciotte regalo Ma non c'è ti regali Questo è rotto Dai 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 serio Questo vuole per tutto il turmennario Questo è più ruolo per il turmennario Tieni Grazie Mi prenderete il culo Fra si Ma il tuo culo Dov'è Per prenderti per il culo Ti prendo per il culo E poi Della testa No? Qua serio Dov'è farmi serio Però non lo apri Qua Tutto il turmennario Qua Però Almeno lui Lo si Qua Vabbè Senti dai Vieni qua io te le do solo perché non tuffi ma la devi smettere di trollare ok mi giuri che non trolli più va bene vai prendere la tua roba con tipo tre armi 130 in più e una 106 è sicuro è la madonna è la madonna è la madonna mi devi giurare che non giurasti che se tu fatti ti viene il cancro il cancro guarda fra non che tuffi che trolli lui non tuffa tipo fa la voce da bm no ho trollato la persona sbagliata però basta trollare ok no io trovo le persone più forte mentre quello battaglia reale prendi questo lo scemo è passato al mondo aspera dai ante è già che tu sei ricco vai sgancia qualcosa tu aspera chi è va aiuto doppio elemento che cazzo stai facendo ante è so f***ing ante fra sei tu tra gli una torta fra il commentario ciao ciao scomparisce fra fra scomparisce scompar- no scompari tutto scompari tutto fra poi puoi dire che è scomparisciuto mi è scomparisciuto l'inventare calcola che sono stai noi perché se trolli cioè non devi più far trollare pure in battaglia reale fra non devi trollare magari uno si incazza capito ci chiama noi siamo la polizia di salvo il mondo no lo sai no lo sai quando quando faccio la voce quando faccio la voce normale dicono sempre mi finissano sempre che ti dicono non lo puoi dire dai hanno salvo il mondo quelli lì per caso però ho degli amici che sono serio scambiare però però ho degli amici miei ho degli amici che ho degli amici che truffano tutti i truffatori però no dico 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 cioè è tipo quelli che ti insultano hanno salvo il mondo fra devi inviare tutti quelli che ti insultano fammi parlare un attimo hanno salvo il mondo loro allora un uomo truffano tutto l'inventario si chiama vabbè dove se lo invidi fra gli è scomparisciuto l'inventario pure a lui e poi te lo diamo c'è già che te l'ha truffato gli facciamo scomparisciuto l'inventario lui truffa truffatori truffano gente innocente truffa tutto fra e allora invita quel bm che si chiama proprio bm si chiama chiaccia a noi chi è un truffatore ci scomparisce bravo ieri ieri uno era un truffatore tutto l'inventario c'è un truffatore che mi vuole scambiare metri anni con 127 acqua che truffa mamma mia andiamo vabbè visto che mi avete regalato tutta roba che si fa non ci faccio tanto con 10 però vabbè fra un'arma per il disturbo fra un'arma per il disturbo almeno tieni fra aspetta non per i miei cimano uno fra ho droppato l'altro io fra prendi 75 fra vai prendi vai se puoi uscire che è un truffatore ma lui comunque non viene perché tipo fa tipo 9 10 anni quello là vabbè un bimbo non lo so non ci stessi bimbo beh dai ce la puoi uscire io mi sto invitando però non viene perché perché pensa che lui poi pensa che io poi faccio venire altri agenti allora si chiama aspetta che te lo dico 2 secondi fra mi ha ci chiamassi allora si chiama c'è qui sotto un altro scusa vabbè dai questo video vi è piaciuto se vi è piaciuto mettete iscrivetevi al canale lo sapevo questo video registrando fra lo sapevo io truffo senza registrare che è un troll un prank vabbè bello cazzo bello è un attimo devo spaccare la scala se no non viene bene il video stavo dicendo bello su Grazie.